un saluto a tutti proseguiamo dove ci eravamo lasciati e quindi andiamo a vedere sempre sulla barra delle modifiche, dei comandi di modifica il comando successivo ossia specchio che? specchio abbiamo visto copia vabbè il primo non lo vediamo neanche erase che praticamente lo possiamo fare col tasto cange della tastiera oppure possiamo premere qui se più ci aggrada copia sposta ruota scala e adesso vediamo specchio per capire bene il comando specchio andiamo un po' a descrivere di cosa si tratta dobbiamo creare una figura simmetrica, che significa una figura simmetrica? una figura che ha un asse di simmetria ok? quindi speculare rispetto a quell'asse andiamo a creare una figura così a piacere usando il comando ok? facciamo una spezzata ok? e premo il tasto esco da tastiera quindi ho fatto questa spezzata zoomiamo un po' ci mettiamo tranquilli qui a lavorare come ho fatto a zoomare? con la rotellina del mouse e a spostare il foglio premendo il pulsante centrale della rotellina esce la manina ok? e il panno funziona ripeto sempre per non dimenticare ok? quindi voglio creare una figura questa spezzata voglio creare una figura simmetrica quindi faccio questa geometria ok? simmetrica rispetto a un'altra da parentesi inclinato quindi lo faccio proprio così generico perché poi quando facciamo una esercitazione ci dovrebbe essere più semplice perché adesso facciamo una figura così assurda no? non ben definita allora cosa facciamo? innanzitutto andiamo a selezionare gli elementi su cui vogliamo intervenire ok? facciamo un bel rettangolo clicchiamo la prima e la seconda volta e vediamo che questa spezzata viene tutta resa a puntini che non è che abbiamo cambiato il tipo di linea ma semplicemente il software ci sta evidenziando a monitor gli oggetti su cui stiamo intervenendo a questo punto lanciamo il comando dalla barra laterale dei comandi di modifica e quindi clicchiamo sul pulsante vedete? è come una farfalla no? una farfalla è un doppio triangolo e sotto appare la scritta mirror che in inglese significa proprio specchio clicchiamo sotto nella barra dei comandi mi dice indicare il primo punto della linea di specchio quindi dell'asse di simmetria il primo punto è questo mi aggancio e clicco col tasto sinistro posso fare ciò perché è attivato lo snap come vedete già adesso lui me la disegna me la sta disegnando no? quindi io potrei agganciarmi a questo punto ok e cliccare però devo verificare se è opzionata la voce della copia altrimenti lui mi cancella la parte tratteggiata e mi fa quella in vista quindi mi fa la parte simmetrica ma mi cancella la parte precedente ovviamente questo è di scarso utilizzo solitamente si fa una metà del disegno qualora sia speculare la metà del disegno non vado a perdere tempo a fare l'altra metà vado a usare questo comando molto 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 utile quindi per vedere se è opzionata questa scelta come faccio al solito tasto destro vediamo che è già opzionata quindi c'è la spunta se qui la spunta non c'è bisognava metterla cliccando col tasto sinistro quindi ok riconfermiamo vedi è stata elevata perché l'ho cliccata la prima volta riclicchiamo quindi adesso siamo sicuri che c'è la copia inserita mi aggancio all'ultimo punto e premo col tasto sinistro ok ho ottenuto una figura che sembra un mezzo calamaro non lo so scherziamo un po' va beh questa figura è totalmente simmetrica rispetto alla linea che adesso andiamo a tracciare ok questa qui l'andiamo a tracciare questa è l'asse di simmetrica ok col comando linea siamo andati a diminuire questi due punti come avete visto con molta scioltezza ci agganciamo i punti notevoli della figura perché è attivata la funzione osnap se questo bottone non è premuto non riusciamo ad agganciarci ai vari punti ok adesso che abbiamo visto il comando specchio io passerei direttamente a comando spezza vediamo sotto c'è comando spezza unisce taglia il comando taglia il comando taglia cosa ci permette di fare ci permette di tagliare gli oggetti quindi non di cancellare perché io se devo cancellare questa linea la evidenzio e poi premo da tastiera il tasto cance oppure questa matita a gomma erase e quindi la cancello ma io la voglio tagliare su una linea particolare quindi andiamo a fare una linea particolare per esempio che taglia la figura in maniera maldestra così ok ammettiamo che noi vogliamo cancellare queste linee tutto ad un fiato allora come dobbiamo fare dobbiamo utilizzare il comando taglia il comando taglia si trova qui 3 ok il comando taglia stavolta ci chiede premiamo così vediamo cosa succede 3 sotto ci dice seleziona la curva di taglio quindi ci chiede di selezionare la curva di taglio quindi prima fase quindi è un comando a due fasi questo prima ci dice mi selezioni la curva di taglio cioè il punto dove dobbiamo mettere le forbici per tagliare per intenderci in maniera molto volgare l'abbiamo selezionata la curva è una sola potrebbe essere anche più di una in questo caso è una e confermiamo col tasto invio ok dopo di che andiamo ho col tasto destro dopo di che andiamo a selezionare vedete qui nella nella etichetta trim select object to trim ok seleziona gli oggetti da tagliare o da estendere poi c'è una funzione composta comunque diciamo da tagliare cosa abbiamo detto che volevamo tagliare questo tac 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 e tac e anche tac perché non me li ha tagliati questi che ho toccato semplicemente perché non erano non avevano intersezioni con la linea di taglio quindi lui non sapeva cosa tagliare perché non toccava la linea di taglio quindi in questo caso se vogliamo selezionare se vogliamo cancellare anche questo usciamo dal comando di tasto X e questi li andiamo a selezionare separatamente li cancelliamo premendo il pulsante cance da tastiera l'importante che abbiamo visto torniamo indietro ok che lui ci ha cancellato in automatico questo è questo e questo che sono proprio gli elementi e anche questo che sono gli elementi grafici che andavano ad intersecare l'asse di taglio la linea di taglio per essere precisi ok quindi è tutto molto semplice adesso andiamo a cliccare di nuovo ok quindi abbiamo messo anche il comando taglia tutti i comandi di modifica sono riportati in questa barra verticale sopra oppure nel menu modifica quindi il menu disegno ci permette di disegnare le varie geometrie e di avere altre funzioni più interessanti che vedremo più amare il menu dimension ci permette di creare le quotature il menu modifare ci permette di modificare gli oggetti disegnati già disegnati per un menu tools ci permette di fare altre cose ma che solitamente non utilizziamo per gli altri menu le vedremo pian piano ok soprattutto questo che è fondamentale per andare ad interagire sugli oggetti ma ripeto questo menu alla fine lo troviamo già riassunto e sintetizzato in questa tabella dinamica aggiungo questo termine dinamica perché se voi vedete cambia di volta e volta noi andiamo ad interagire sulle geometrie quindi quando clicchiamo un elemento la tabella si aggiorna in qualche modo e fa vedere tutte le proprietà specifiche vita morte e miracoli di quell'oggetto selezionato o degli oggetti selezionati se ne sono di più di uno spero di essere stato chiaro e ci vediamo alla prossima video lezione buona giornata grazie a tutti